Gli scavi a Teltimai nel nord dell'Egitto hanno trovato resti della fallita grande rivolta contro i sovrani tolemaici. Rare prove di una ribellione decennale contro il dominio greco-macedone, menzionata sulla stele di Rosetta, sono state trovate in un'antica città egiziana. Gli scavi a Teltimai, l'antica Thmui, 102 km a nord del Cairo, hanno rivelato vaste distruzioni avvenute durante la grande rivolta, avvenuta dal 207 al 184 a.C. Le prove archeologiche della «rivolta» sono piuttosto rare, afferma J. Silverstein della Nottingham Trent University, Regno Unito, uno degli autori principali dell'articolo pubblicato nel Journal of Field Archaeology. Naturalmente ci sono un certo numero di decreti e iscrizioni, come la stele di Rosetta, alcuni resoconti storici e alcuni papiri con riferimenti indiretti, ma quando si tratta di trovare i punti in cui la spada incontra le ossa per quanto ne so, questo è il primo che è stato riconosciuto. Nel corso di diversi anni, il team ha scoperto i resti di edifici bruciati, armi, pietre lanciate da una macchina d'assedio, monete nascoste sotto il pavimento di una casa, una statua divina rotta vicino a un tempio e corpi insepolti sparsi tra le rovine o scaricato incumuli di macerie e rifiuti. Lo scheletro di un giovane è stato scoperto con le gambe che spuntavano da un grande forno, dove forse aveva sperato di nascondersi dai suoi aggressori. Un uomo sulla cinquantina, il cui corpo mostrava ferite rimarginate in precedenza, sembra essere morto difendendosi. Potrebbe essersi decomposto seduto in posizione eretta. Esaminando le ceramiche e le monete, il team ha datato la distruzione alla grande rivolta, quando gli egiziani tentarono, ma fallirono, di liberarsi dal dominio tolemaico, la linea di re greco-macedoni iniziata dopo che Alessandro Magno conquistò l'Egitto e terminò con la famosa Cleopatra VII. Abbiamo aperto una nuova porta alla nostra comprensione del colonialismo ellenistico, della resistenza indigena e dei meccanismi di controllo, compresa la brutalità del dominio dell'Egitto da parte della dinastia macedone, afferma Silverstein. Molte altre città hanno subito un destino simile a quello di Thmui e spero che questa scoperta aiuti ad ampliare la portata della nostra comprensione archeologica di questi eventi. La scoperta ha fatto riconsiderare a Silverstein quanto decisivi fossero gli eventi della ribellione nello sviluppo del mondo occidentale. L'Egitto ellenistico ha svolto un ruolo cruciale nella traiettoria della storia, compreso il suo ruolo di crogiolo del cristianesimo e baluardo del potere imperiale romano. Se gli egiziani avessero riconquistato la loro terra dagli occupanti greci, sospetto che oggi il mondo sarebbe molto diverso.